E' vero, l'amministrazione comunale di Angri ha accettato ciò che gli avevamo chiesto. Adesso è necessario che si firmino gli atti e si prenda possesso della struttura per dare avvio ai lavori di risistemazione del fabbricato in cui dovrà essere allocato il futuro distretto sanitario. Con queste parole il direttore generale dell'ASRA, Salerno 1, dottore Antonio Squillante, chiude una polemica che si protraeva da mesi. Raggiunto l'accordo con l'amministrazione comunale si dovrà da subito pensare ad acquisire il fabbricato ed avviare i lavori di ristrutturazione per consentire l'adeguamento in struttura sanitaria e dare il via ai servizi di cui la città ha bisogno. Finalmente sono state superate le polemiche ed ora si dovrà pensare ad allestire al più presto la struttura per consentire ai tanti cittadini di poter fruire di un servizio adeguato ed al pari di altre strutture sanitarie esistenti sul territorio. Finalmente il Comune so che alla fine del 2013 ha fatto una delibera di approvazione di quella convenzione. Lui mi ha scritto proprio in questi giorni una nota nella quale dava la disponibilità, la consegna nell'emore della sottoscrizione della convenzione del contratto di comodato dell'immobile per entrare in possesso. Io ho accettato questo però ovviamente non posso andiamo là, ci guardiamo la struttura però finché la convenzione non è sottoscritta noi non possiamo cambiare nemmeno la serratura alla porta. Quindi è importante che sottoscriviamo velocemente questa convenzione ma visto che ormai tutti i passaggi sono stati fatti immagino che siamo prossimi e quindi da quel momento in poi inizia la competenza al 100% dell'azienda perché dovremo fare dei lavori di ristrutturazione per adeguare quella struttura che era destinata ad attività sociali e non sanitarie. Ovviamente la dobbiamo adeguare alle attività sanitarie. Grazie.